Ciao, sono qui in un posto veramente potente, ho appena fatto una meditazione molto molto forte. Qui l'energia è qualcosa di indescrivibile come tutti i luoghi particolari in cui mi sto recando in questa zona. Qui siamo in una zona che si chiama il tumulo e non sto a spiegarti la parte tecnica perché in questo momento non sono assolutamente in grado. Tu vorrei solo che ti connettessi con questa energia per un istante, giusto un minuto, nel quale rimarrò in silenzio perché tu possa ricevere questa energia. Respira e chiudi gli occhi. Bene, ora puoi rimanere connesso per qualche altro istante se lo desideri. E poi mi farebbe veramente piacere se tu scrivessi che cosa hai provato, come ti sei sentito, come hai sentito l'energia di questo luogo. E al prossimo video, ciao!